Sono 180 circa i lavoratori del comune che oggi presidiano il piazzale Quinci, una protesta che inizierà oggi e continuerà per tutto l'anno se qualcosa non cambia. Accanto a me Giorgio Magaddino, il sindacalista di questi lavoratori. Quale sono le motivazioni nello specifico? Le motivazioni sono che se non succede nulla da qui al 31 di dicembre con un nuovo impianto normativo e legislativo, naturalmente in sintonia fra il governo regionale e quello nazionale con la regia della comunità europea per non infrangere equilibri di leggi di stabilità, i lavoratori del comune di Mazzara del Vallo, i 180 più i 22 mila circa in Sicilia, avranno finito di albergare fra di loro un sogno mai realizzato. Io credo che nel terzo milienno, negli anni in cui siamo, con l'assoluta incertezza, quasi un vuoto istituzionale nella regione Sicilia, un governo che fa acqua da tutte le parti e soprattutto con un governo nazionale che annuncia mega riforme, momenti di aggregazione complessiva di dare certezza a chi non ce l'ha, continuiamo a tenere in piedi una vergogna soltanto siciliana con la collaborazione in atto da parte del governo italiano. Noi riteniamo che nonostante le proroghe adoperate dal governo nazionale, dobbiamo mettere in campo una norma che dia lustro al sacrificio di gente che ha speso i migliori anni della loro vita, che da qui alla fine dell'anno vedranno infranti i loro sogni, le loro incertezze, ma non è soltanto il problema del lavoratore o della lavoratrice, che in quanto già tale viene scalfita nella dignità di essere figli di questa Repubblica, ma dietro queste donne e dietro questi uomini ci sono nuclei familiari, ci sono ragazzi che sono mai venuti al loro tempo già nella maggiore età. Che immagine diamo del Paese? Che immagine diamo della politica rispetto al fatto che abbiamo un dramma di non poco conto? Lo ripetevo e mi piace ripetere. Abbiamo evitato la macelleria sociale come diceva Crocetta? Bene, c'è un altro sport che hanno messo in campo. Siamo di fronte a una vera e propria mattanza, però attenzione, non ci faremo prendere a calci nel culo da questi signori. Da qui a fine anno ci saranno una serie di iniziative democratiche come quelle di stamattina, ma chi ascolta comincia a sentire anche i rumors di un guasso che ci può portare anche negli anni terribili delle 68 di grandi manifestazioni perché 22.000 persone sono stati prigionieri della politica con responsabilità anche delle organizzazioni sindacali perché nessuno è immane o immune da colpa, compreso i stessi lavoratori, che oggi hanno un risveglio, un embrione, un seme, una pianta che può diventare albero perché siamo pronti alla barricate, alla serrate e anche con azioni graviste. Mi assumo la responsabilità delle cose che dico, però quello che si registra e quello che bisogna fare da qui a settembre è questo. Salvo contrario, ci sarà un autunno caldissimo. Lavoratori che ormai sono indispensabili? Sono certificati dalle attività svolte dalle varie amministrazioni, compreso anche l'ultima amministrazione e quella che è tuttora in carico. Le certificazioni e gli indicatori danno proprio ragione ai lavoratori, questi giorni di fermo come oggi i cittadini chiediamo scusa per il disagio ma è un modo per dire che non è un problema soltanto dei lavoratori, è un problema della città. In una comunità, in una collettività dobbiamo prendere atto che 180 lavoratori, credo che siamo dopo 1, 2, 3 aziende, forse l'azienda più grande che oggi vede a rischio 180 lavoratori, 180 nuclei familiari, 180 famiglie che possono degenerare in questioni di non poco conto. Quindi la città si prepari anche a stringersi attorno ai propri figli, ai propri concittadini per dare manforte a questo. Vedete, con la scuola quello che è successo. Era a rischio la civiltà del futuro, delle classi generazioni del domani. L'Italia si è fermato, c'è un governo che ha capito. Se queste 22.000 persone guidate soltanto da un sentimento nobile che è non l'occupazione a tutti i costi, ma la dignità riconquistata a tutti i costi per gli abitri che sono normati dalla legge, noi riteniamo che essendo utili e indispensabili divenuti dal Comune e la testimonianza dell'amministrazione non siamo contro nessuno. Abbiamo visto che hanno attivato delle procedure che stanno assicurando tramite i bandi di selezione alcune attività per una parte di loro, ma sono un numero esiguo, si parla di 6-7 unità contro 180, c'è bisogno di un radicale cambiamento dal punto di vista dell'impianto normativo. Ci dite che non li facciamo tutti in una mattinata o nel volgere di un semestre, ma è chiaro che in un asso di tempo programmato, è ben delineato, è ben preciso e con certezza, noi lo dobbiamo determinare, perché cosa succede? La gente va in pensione, va in quescenza, le somme rimangono nelle pieghe del bilancio e non diamo il ricambio, il cosiddetto turnover. Qui per la portata della questione non siamo più in queste condizioni, bisogna derogare a norme e la comunità europea li vede, li registra, tant'è che ha dichiarato rispetto ad alcune infrazioni che la norma italiana sul divieto di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato stride, non è in linea con i dettami, la circolare della comunità europea. Noi non ci vogliamo rivolgere ad attività legali perché abbiamo la coscienza e la conoscenza e soprattutto l'orgoglio di essere cittadini italiani e con gli italiani e con i governi dobbiamo risolvere il problema, però non è più tempo di aspettare e albergare dormendo sonni tranquilli. Che dialogo ci sarà quindi con il sindaco perché dipenderà anche tutto molto da lui? Dipende tutto molto da lui ma bisogna pure dire per onestà intellettuale che le norme in atto di cui dispone l'amministrazione le è attivate e in base alla sua capacità istituzionale, occupazionale, avendo trovato quel montante che diviene dalle somme andate in quescenza ci sono state delle esigenze che bisogna assicurare al comandante della Polizia Municipale, si è voluto dotare di un ufficio stampa quindi con una stabilizzazione, lì si può discutere sull'opportunità o meno ma sono scelte e quindi vanno rispettate e possono essere non condivise. Abbiamo registrato che in questa residua capacità occupazionale c'è la possibilità di assumere 6 dei 180 precari e quindi capiamo che le norme li consentono di svolgere un'attività limitata. Noi dobbiamo derogare a questo limite, ciò significa storicizziamo la somma dei 300 milioni di euro che spende la regione siciliana trasformiamo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato per tutti con l'attività concorsuale riservata a chi ha svolto già le attività nell'amministrazione questa è la proposta, nella storicizzare le somme man mano che le persone vanno in coescenza, cioè in pensione queste somme vengono coappittate dalla regione per far fronte alla pesantezza dei 300 milioni di euro ci presenteremo al governo italiano con una politica di parsimonia e di armonia della spesa pubblica e guarderemo all'Europa per dire stiamo risolvendo il problema, altrimenti si scatena un inferno e l'inferno è perché ne parliamo, apparentemente c'è gente che potrebbe anche farne a meno si innescono due meccanismi, se in un nucleo familiare c'è uno che lavora sono drammi e lì è incontrollabile quello che succede se in un nucleo familiare sono tutti e due che lavorano si innesca un altro meccanismo la dignità di avere speso 25 anni per raggiungere un obiettivo che è la dignità di essere cittadini italiani noi siamo ex giovani, ora siamo madri e padri lavoratori a tempo determinato anche nonni, qualche collega ha detto siamo disperati ad essere un po' preoccupati perché non ci sono garanzie non c'è una programmazione, non c'è una speranza per aver rinnovato il nostro contratto e il nostro futuro siamo alle strette ormai, siamo delusi, siamo un po' depressi siamo tutto quello che giustamente si può provare all'aver le mani e siamo adesso nelle mani non sappiamo di chi perché non ci sono le leggi che ci possono garantire una proroga e nemmeno una stabilizzazione definitiva e siamo pronti adesso a essere presenti perché vogliamo delle risposte vogliamo una garanzia quantomeno di una programmazione di sapere se saremo ancora dei lavoratori oggi oppure andremo a casa, non lo so e quindi c'è molta disperazione, molta anche se siamo qua sorridenti perché abbiamo fiducia che ciò possa avvenire perché come dobbiamo fare? Siamo delle mamme proprio, dei padri ci sono colleghi che sono entrambi qua presenti, entrambi contrattisti e precari e quindi significerebbe mandare delle famiglie proprio allo sbando Basta il precariato, insomma oggi si grida basta il precariato per un futuro migliore Allora io grido per due persone, doppiamente perché sia io che mio marito siamo precari all'interno del comune di Mazzara del Vallo con la qualifica di vigili urbani questa cosa diciamo che sta diventando non pesante ma un macigno in una famiglia che ha sempre vissuto di precariato ha fatto tre figli all'interno del precariato gli ha stressati facendo conoscere che la vita è soltanto precariato perché io ho figli a 26 anni che diciamo ho avuto durante questo periodo Ora basta, ora basta e lo dico a maggior ragione io portavoce della Polizia Municipale e avendo anche mio marito come Polizia Municipale Basta, ora basta Lei ha sempre vissuto nel precariato quindi assieme al suo marito con la speranza però sempre alle istituzioni oggi questa speranza viene a mancare oppure no? No questa speranza non è che viene a mancare noi a 101 dicembre siamo a casa e io mi devo doppiamente preoccupare perché io non ho da dove attingere cioè forse qua qualcuno ha il marito che è impiegato ma io no, io no quindi mi faccio portavoce sia dei miei colleghi giustamente ma soprattutto per me, per la mia famiglia che è doppiamente diciamo tartassata da questa cosa 180 persone vogliono dire 180 famiglie che a Mazzara del Vallo sono un numero veramente grande di persone che in questo momento rischiano di perdere uno stipendio che in tempi d'oggi insomma uno stipendio a volte anche l'unico che c'è in una famiglia 180 persone oggi presenti qua significano 20.000 persone 22.000 persone che stanno scioperando in Sicilia il presidio di Mazzara che non è una manifestazione contro l'amministrazione comune di Mazzara è una parte della manifestazione che sta avvenendo in due grossi centri siciliani Agrigento e Messina per scelta si è deciso di presidiare il comune di Mazzara del Vallo perché riteniamo che ogni grande fuoco possa accendersi anche con un fiammifero e noi pensiamo che se la politica non saprà dare in tempi brevi risposte adeguate questo sia il fiammifero di un fuoco che si espanderà prima per tutta la provincia di Trapani perché inviteremo anche i colleghi degli altri enti provinciali in un'unica assemblea nei prossimi giorni in un salendo di protesta perché il tempo è finito riteniamo che non sia possibile più andare avanti con il proroghe con promesse spesso non mantenute e il presidio di Mazzara serve anche a dire che un'amministrazione non è tale e non è chiamata solo ad applicare le norme un'amministrazione è chiamata anche a interpretare le norme, a cercare di trovare soluzioni in passato e per altre cose questa amministrazione ha saputo fare amministrazione creativa spesso non proprio lodevole, per una volta la faccia in maniera lodevole e aiuti a trovare le soluzioni invitiamo questa amministrazione per esempio a porsi in testa alla manifestazione per trasmettere la necessità vera e reale di questi lavoratori perché non è possibile dire un giorno senza di voi non si può andare avanti nel tentativo magari di tenerli buoni e l'indomani come dire vabbè senza di voi andiamo avanti lo stesso non è possibile fregarsene e poi durante la manifestazione dello sciopero arrivano telefonate di posizioni organizzative che in maniera più o meno velata minacciano perché si sono bloccate le attività e quindi bisogna andare al lavoro non è consentito, non è corretto è giusto che se l'amministrazione come ha dichiarato in atti pubblici e ha sottoscritto atti pubblici dove dice che senza questo personale non può andare avanti anzi ha necessità di altro personale si intesti la battaglia perché se la intesti questa amministrazione se la intestino tutte le amministrazioni della Sicilia perché solo attraverso una sinergia delle necessità si può far capire a chi deve capire che è finito il tempo delle promesse non è più un bacino elettorale da strumentalizzare è necessario trovare soluzioni definitive quale siano non me lo sento di dire però bisogna mettere la parola fine a questo stilicidio politica miope, politica fatta sul discorso ma se mi paga la regione perché devo prendermi questo problema sul gloppone ha consentito negli anni che si arrivasse al traguardo senza aver risolto il problema c'è il rischio che il 31-12 per molti si trasformi non in una festa di fine anno, una festa di capodanno ma si trasformi con l'addio al lavoro l'addio al lavoro tantacognato per il quale negli anni questi lavoratori a secondo di come se le legge più o meno correttamente hanno dato non solo i loro migliori anni della vita ma sono stati spesso e lo voglio sottolineare sfruttati in che senso sono stati sfruttati? arrivo, sono stati utilizzati al limite del lavoro nero perché di queste persone se ne è fatto strame utilizzandole come volevano e quando volevano chiamandoli alla bisogna a fare ore di lavoro in più concedendo a qualcuno integrazioni a qualcun altro no facendo in buona sostanza la vecchia politica delle amicizie che è una cosa aberrante che è riprovevole, non è più accettabile ricordo che Mazzara per tante cose è stata in passato laboratorio noi speriamo che anche questa volta sia laboratorio laboratorio di una protesta diversa dalle 20 proteste almeno 20, un annuale che si sono fatte fino a oggi parta da qui un movimento nuovo che possa far raggiungere da una parte gli obiettivi e far capire ai vecchi politicanti che è finito il tempo del, lo dico in dialetto attia di logo grazie a tutti